Oroscopo di febbraio per i segni di terra. Il segno del toro, seconda parte del mese, è importante per la presenza di Marte che darà forza, energia e capacità progettuali importanti. È l'ora delle grandi scelte che possono diventare durature, amicizie e amore possono essere cementate e diventare futuro. Il segno della Vergine è in ripresa, sia nel settore amoroso che in quello professionale e umano. Possibili soluzioni di vecchi problemi, evitate l'esagerazione, la vostra dote naturale è la ponderazione, usatela. Capricorno, ottimo mese per l'amore. La presenza di Venere porterà serenità nei rapporti affettivi. Sarete romantici, teneri, emotivi, periodi importanti e favorevoli nell'assunzione di responsabilità e nel prendere decisioni. Presa di coscienza dei vostri talenti, abbiate più fiducia in voi stessi. Grazie.